Avevano acquisito per due anni la gestione del Lido Miami Lounge Beach Bar, ubicato a lungomare di Catania nei pressi di Piazza Europa, dichiarandosi mandatari di una solida società svizzera ed esibendo documenti falsi. Ma al momento di pagare quanto pattuito con la società proprietaria dello stabilimento balneare, non avevano sganciato un centesimo. Da lì l'avvio delle indagini, giunte oggi al sequestro preventivo del Lido, emesso dal GIP del Tribunale di Catania su richiesta della Procura ed eseguito dai carabinieri del Comando Provinciale. Indagati il 62enne di origine nissena Salvatore Pistone, la 51enne catanese Giovanna Maria Salvo, entrambi con precedenti di pulizia, e Anna Laura Comparato, 28enne catanese, ai quali sono stati notificati anche gli avvisi della conclusione delle indagini preliminari per concorso in truffa. Il reato di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e ha contestato solo alle due donne, che peraltro risultano congiunte con elementi di spicco del clan mafioso Cappello. L'inchiesta, condotta tra aprile 2022 e agosto 2024, dal Nugli Investigativo di Catania, sezione misure di prevenzione e criminalità economica dei carabinieri, ha svelato come il gruppo, con una truffa ben architettata, sia riuscito a impossessarsi del Lido. Nel 2021 Pistone ha proposto alla società proprietaria dello stabilimento di concederlo in affitto, fingendosi legale rappresentante della società svizzera, realmente esistente ma totalmente all'oscuro, esibendo documenti e deleghe false. Il compenso pattuito era di 135.000 euro l'anno per i primi due anni, 140.000 per il terzo e il quarto, 150.000 per il quinto e il sesto. L'amministratore della società titolare del Lido aveva comunque richiesto una polizza fideiussoria a garanzia dei pagamenti dei canoni di locazione, ma anche il documento bancario fornito era falso. L'affitto, iniziato a marzo 2022, comprendeva sia il Lido sia il ristorante, con le due donne che entrano in scena in questo momento per la gestione e la promozione dell'attività. Ma i canoni di locazione pattuiti non sono mai stati pagati con la conseguente citazione davanti al Tribunale Civile di Catania, dove sono stati prodotti altri documenti falsi che hanno indotto in errore anche l'autorità giudiziaria che ha ritenuto che la situazione economica societaria fosse solida e in grado di estinguere i debiti. Le indagini hanno però messo in rilievo la truffa, evidenziando come l'attività commerciale del valore di 3 milioni fosse stata illecitamente acquisita. Il Lido è stato affidato a un amministratore individuato dal Tribunale.